ciao a tutti i coniglietti pelosi che hanno mangiato la mia carota volevo la mia carota perché avete mangiato la mia carota dov'è la mia carota ma te sei scemo che cacchio ti sei mi sono fatto fare male due volte ma te sei scemo scusate la scemenza di igor e il tank ecco la testa è la serie di sante due ore dolore 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 ma te sei scemo che cacchio hai detto coniglietti pelosi coniglietti pelosi e ti hanno rubato la carota mi hanno rubato la carota dovete sapere che lui è un coniglietto pelosi che mangia tantissime carote io non mangio a volte lo chiamano bac sbanni io mangio solo tua mamma pesce anche oh scusa è di qui a fianco a noi vado dirlo ma com'è che io non ti vedo com'è fatto a non vedermi scusa come vedete no ma non ti vedo nella minimappa infatti ho dimenticato di mettere no volevo mostrarvi il mio titolo e il mio emblema allora il mio titolo è quello delle mille uccisioni con l'elicottero e mille uccisioni con l'elicottero ragazzi elicottero d'attacco e il l'emblema agli osprei chiamati 15 ma poi c'è il suo emblema è quello degli osprei e il titolo quello del clan che siamo al sedicesimo livello whatsapp signori no non si copie i nemici buddisti ehm aspetta aspetta anche se ormai giochiamo per colp quindi ormai qui c'è qua è difficile che cerchiamo io scopo io scopo le scopo io scopo le scopo oh e trovi con il tanke santiago silva santiago bernabéu non c'entrò carchi ehm cosa c'entrò santiago silva io con il tanke l'ho preso da lì il nome davvero ah davvero per chi non lo sapesse il mio nome l'ho preso da una volta che sono andato a vedere interfiorentina e c'era il loro nome numero 10 si chiamava santiago silva se non l'avete presente è uno grosso pelato vabbè si se lui ti guarda i video è un grande ahahah grosso grosso pelato ehm che in 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 Brasile è anche abbastanza forte no? con in Italia no no con in Italia faceva schifo ehm ma io lo prendevo in giro e lo chiamavo Igor perchè sembrava quello di ehm avete presente il film aspetta eh ehm Frankenstein jr si ma dove te ne va io dove ero primo perchè se io ho una scia sfortunata ritorno sempre nel posto dove ho avuto la scia sfortunata solo la scia sfortunata le trovo per poco vincevo vincevo sembrava sembrava Igor di quello di la ehm Frankenstein jr che 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 è pelato gobbo strano no? strano ehm che cacchio devo saltare invece ho cambiato harddite e scappa pensa alla fuga io penso alla patata scusa no tu pensi alla fuga ma porca caccia mi sembra anzi prima di fare il silenziale si trova un coltellino è in bomba dicevam ehm mi lancio un coltellino no ehm allora ho preso il nome da lui che mi sono affezionato oh guggio ma stai un po' zitto mi lancio un coltellino no mi sta uccidendo sempre se mi lascio un uccidendo ti do il coltellino ehm ehm se ti lascio un uccidendo ce l'ho di nuovo il coltellino che so scemo un pochino pochetto da un coltellino ti chiede che ti chiedo un rubenello titolo lupinello oh finalmente ma muori ehm ok e dicevo ti ho sparato i piedi ai mi ricordo più come si fa vabbè no vabbè no dicevo beh però dillo ehm vandalismo vabbè mi sono affezionato però quando volevo fare quando volevo iscrivermi al playstation network che non mi dava igor silva come volevo ma mi dava igor il tank e allora ho messo igor il tank e quando ho scelto di fare il canale ho messo ho messo quello che ho messo nella playstation quindi oh che sera romantica tua mamma è di là e ci sta a ascoltà ciao mamma di Alan vabbè dicevo ancora no ho finito cosa devi dire? e niente per questo ma porca miseria io sto parlando e tu mi interrompi in realtà stiamo giocando ma che bello no sentire tutti i tasti I'm bomba Aaron so che sei in in caldo in caldo non per non dire cose brutte bruttissime che poi i bambini ci rimangono male i bambini poi corrono per strada scappano senza parlare dai cani dai questa era bella è epica questa è una roba da nerd altro che storia è una figa epica come Nina Seneca è una roba da nerdoni paurosi ma cosa vuoi? anche questo lui è una cosa da bravura nerd come vedi ha quasi tutelarmi oro nerd tutti i cecchini d'oro tranne l'ersass nerd oh 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 my god are you fucking kidding me? cioè vabbè in questo video voglio salutare il mio fan non è vero bella fan e si chiama luca pare a meno quanto pare no scusa bella seconda battuta no c'è la prima è la carina saluto mio fan ciao fan e no dicevo lui che si chiama luca pare e so che mi segui da tanto oh che tenere grazie zio segui anche me non seguirli è brutto lui si ma faccio video più belli dei tuoi io faccio ridere anche noi facciamo ridere insieme quindi anche perchè siamo in tre quindi facciamo più ridere segui il nostro canale the clan of games please oh baby please e poi hai visto quanto son forze rispetto a lui lascialo lui pensa a me mi piace la terracotta ma sei scemo non avete mai mangiato una torta di terracotta? di te ma va a cagare eh oh raga ragazzola che pensi pure di vincere cioè ne hai persi ne hai persi già oh mamma oh mamma e mo non sei rotto è impossibile sai che me la son mirata come una vacca vero? lo so eri sdraiata come non so cosa è impossibile che la zecchai al primo colpo oh 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 ebbè ci mancherebbe altro che sta ricadendo a guardare a guardare a guardare l'ugero qui c'era un trucco per statine va non riesco c'era uno del mercato oh my god si oh barbone trick show trick show dai barbone ok mi tolgo la barba no no ma che c***o quanto sei scemo ho finito il coltellino mi lancio il coltellino vai barbone oh schifoso maniaco mmm baby please ma non ho capito ma questo che lo persone lo conosci di persona o no no so che mi segue da un botto perchè eh come si fa eh mi commenta spesso che tenero mi sta simpano ma non lo conosci ciao zio bibbo zio bibbo hai chiamato bibbo no spero che si bibbo è mio amico no in realtà si chiama bibbo però io chiamo bibbo dai dai venite tutti a vedere anche il mio canale cavolo del crono andiamo tutti da mario come ho fatto a non prenderti e come ho fatto a vincere lo sconto andiamo tutti da mario certo ma secondo te ganja chanelle profumo di ganja non ti metto un attimo sotto quello che fa un trick shot pure qui andiamo tutti da mario dai 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 oh petro qua sotto dai un secondo solo se andiamo tutti da mario si andiamo tutti da mario dopo dal nostro prof vai mettiti io ti faccio ti sparo comunque no ti sei fatto solo male basta non lo faccio più anche valore no sono solo simpatico e comunque i baffi devo farmi sì lo sai do 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 La terza partita che vince Di fila ragazzi Speravi di perdere neanche una La 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 E già tanto se io faccio 10 uccisioni a partita Mamma mia ragazzi E vince la terza partita Quindi è per questo che dovete venire a vedere il mio canale Il mio canale Lo sapete che io ho messo il joystick dentro A un buco del tavolo E questo dovete vedere il mio canale E adesso se l'ho messo in bocca Vabbè Basta E' di mio fratello quel joystick Lo smetti? Vabbè Ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti A Gimanella A Gimanella Ciao 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 ciao